Oggi abbiamo portato in Commissione di Vigilanza una nota scritta dal Presidente Marsilio, da una consigliera della provincia di Teramo e dal Sindaco di Silvi che sostanzialmente chiede di paralizzare le attività dell'area marina protetta del Cerrano, attività importanti che hanno progettualità in corso per finanziamenti che si possono ottenere ma che impattano sul settore ittico, sul sociale, sul turismo di quell'area. Chiedono di fermare e sostanzialmente paralizzare le attività. Per quale ragione? Non lo sapevamo. Oggi, finalmente, attraverso le parole del Sottosegretario D'Annuntis e del Sindaco di Silvi hanno detto chiaramente che si trattava di sospendere le attività poiché bisognava prenotare la candidatura di un Direttore Generale e del responsabile dei servizi finanziari di quella struttura. Quindi, per la seconda volta, dopo quello che è successo con i consorsi di Bonifio questo Governo regionale vuole prenotare le poltrone all'interno degli organi. Lì, l'area marina protetta ha un Consiglio di amministrazione assolutamente legittimo che scade fra nove mesi. Chiediamo al Governatore Marsilio di avere pazienza e soprattutto di rispettare gli statuti e le norme. Questa nota, purtroppo, è una nota assolutamente sgrammaticata, soprattutto dal punto di vista istituzionale.